Tema della serata, la complessità. Credo che questa sera ci sia un po' una sfida a parlare della complessità, perché credo che ci sia una difficoltà a parlarne, per cui lascerei immediatamente la parola a te e al giochino visivo che ci vuoi proporre. Però quel disegnino lì ha una prima caratteristica, i puntini rossi sono collegati tra di loro per un'unica strada, non ci sono reti intese come le reti dei pescatori, quindi è una struttura che appunto c'era, ha dei centri ma ne ha più di uno, non si presta così evidentemente è un discorso di gerarchia, ha una componente, come chiamarla, di disordine. La prima cosa che merita di guardare di quel disegno è che se voi contate i punti e provate a vedere per ogni punto quanti sono quelli a cui i punti sono collegati, vi accorgerete di una cosa abbastanza curiosa, che ci sono molti punti che hanno un solo legame, sono in qualche modo diciamo periferici, poi ci sono molti meno punti che hanno due legami e man mano che volete cercare dei punti che abbiano più legami il numero diminuisce. Per darvi un ordine di grandezza immaginiamo che quelli che hanno un legame solo siano mille, quelli che ne hanno due sono duecentocinquanta, un quarto, ma quelli che ne hanno quattro sono un quarto di un quarto, quindi ogni volta che volete raddoppiare il numero di legami il numero di nodi è diviso per quattro, quindi in sostanza moltissimi sono dei poveretti che hanno un solo legame e pochissimi sono i nodi che hanno un grande numero di legami. Forse per voi è ovvio, io la prima volta che ci pensavo mi avevo un po' intrigato, quando voi pensate a una mela, dite che questa a grosso modo è una mela, se è così piccola dite che è quasi una susina e una cosa così è un melone. L'idea di mela si associa a una dimensione di cui avete una sensazione, anche fisica, lì non c'è un nodo medio, non c'è un nodo che è rappresentativo, lì ci sono tantissimi nodi con un solo collegamento, che non sono di nodi, sono delle foglie marginali, ne avete pochissimi con tanti legami. Questo non è un fenomeno a cui siamo abituati. Il mondo a cui siete abituati dipende dalla scala, le cose nel piccolo non sono uguali alle cose nel grande. Quel tipo invece di disegnino è fatto in un modo tale che voi potete tagliarne un pezzo ed è concettualmente uguale al tutto, potete farlo più grosso e continua a essere sempre uguale. È come, che so io, un albero e voi avete i rami, poi i rami, poi i rami. Se io vi do un pezzetto non sapete se il ramo le foglie, i fiocchi di neve, si chiamano frattali. Cioè quella roba lì è una rappresentazione che sembra tranquillizzante, ma come vedete ha per intanto questa invarianza di scala. Cioè comunque voi lo vediate non sapete se è piccolo o grosso, perché quella logica si può replicare in piccolo o in grosso. Non ha un valore medio, quindi non ha un nodo rappresentativo, non ha una gerarchia, perché non è una struttura ordinata. In qualche modo ha una componente casuale ed è vero che ce l'ha. Quella rappresentazione è una rappresentazione che è alla base di moltissime cose che dagli anni settanta in poi hanno cominciato a diventare famose. C'è prima le anche amate dinamica degli ecosistemi, poi catastrofi, poi ci sono stati frattali, poi c'è gente che ha parlato di automi cellulari, sistemi complessi. In fondo se dovessimo dire forse la cosa più simile a quel disegno è una rappresentazione di internet. A secondo della scala a cui la prendete, internet tende ad essere sempre uguale a se stessa, è chiaro che man mano che compattate i nodi più piccoli spariscono, man mano che espandete allargate. Questo modo di ragionare da cosa nasce? Nasce da un giochetto di società, quello lì, che possiamo anche fare tra di noi adesso, che è molto semplice. Si chiama preferential attachment in inglese, l'attaccamento preferenziale. È una logica molto semplice, è la logica piove sul bagnato. Quella roba lì si fa così, io e lui ci conosciamo. Quindi si parte da due persone, ciascuna delle quali ha un legame. Chi arriva non introduce nessun valore, questo è molto importante. Quindi non sceglie l'età, non sceglie il sesso, non sceglie se piacciono noi i baffi, tira una moneta e decide di attaccarsi a uno dei due. Perché? Perché noi due siamo equipollenti, ciascuno di noi due ha un solo legame. Ovviamente se tu ti attacchi a lui, a questo punto lui è favorito, perché lui ha due legami e noi due ne abbiamo uno solo. Il quarto che arriva lancia un dado un po' particolare e al 50% si collega a lui, al 25% a me e al 25% a te. E voi continuate questo gioco. È chiaro che più persone si attaccano, più il meccanismo di probabilità si distribuisce. Questo meccanismo che apparentemente è la gente tende ad andare dove c'è già di più. È una logica piove sul bagnato, non è una logica particolare perché non ha dei valori espliciti, genera un risultato che se ci pensate un momento è abbastanza sorprendente. Perché la logica uno tende ad attaccarsi dove ce n'è di più genera un mondo di isolati, di gente sola. E perché è vero che aumentando il numero di persone aumentano anche la probabilità sua di continuare ad avere dei collegamenti. Ma è anche vero che il numero di persone aumenta e quindi la probabilità di non collegarsi a lui cresce. Questo giochetto ha molte caratteristiche diverse dal discorso della mela. Se voi vedete una mela così, dite che non è una mela. Cioè l'idea che noi abbiamo incorporato è che i fenomeni naturali e normali hanno un comportamento prevedibile. Se un fenomeno vi si presenta in una maniera molto lontana dal previsto addirittura si insegnava agli ingegneri a buttarvi i dati. Perché se ti viene fuori un numero che è completamente fuori da quello che tu ti aspetti è perché è un errore minimo. Questo è il mondo a cui noi siamo abituati a ragionare. In realtà questo è un mondo pesantemente condizionato dall'industria, dagli stati, da meccanismi politici di solidarietà, via via. Noi siamo venuti su in un mondo in cui la maggioranza delle cose che noi vedevamo erano cose artificiali prodotte per essere uguali a se stessa. Pensate alle automobili, un'auto lunga, cinque volte le auto normali, è sensato? No, non è un altro, è un scherzo della natura. Perché ho scelto cinque? Perché quella cosa che si chiama gaussiana quando avete dei numeri che sono cinque volte la varianza di buttate via. La verità è che molte delle cose che noi abbiamo attorno hanno una variabilità che è molto più grande di quella a cui siamo abituati. Cominciamo da una cosa, un terremoto. Se voi vi chiedete cos'è un terremoto medio, non c'è. I terremoti non sono come le mele, non c'è un terremoto ragionevole. Ci sono tantissimi terremoti piccolissimi, meno terremoti più intensi, pochissimi terremoti grandi. Attenzione, questo ragionamento porta a dire che non c'è un terremoto massimo. Ma questo discorso di una distribuzione strana vale anche per le alluvioni. Vale anche, se voi prendete la portata di un fiume e fate la storia della portata di un fiume, vi accorgerete che la siccità è molto più frequente di quello che uno si aspetterebbe se la distribuzione fosse quella delle mele o dell'altezza degli uomini. Ci sono molte più piene, eccezionali, strane e molte più seccità straordinarie di quanto uno non si aspetterebbe. Ma questa cosa si ritrova in un mucchio di cose di natura. Ad esempio, se tagliate un albero e misurate lo spessore degli anelli, vi accorgerete che lo spessore degli anelli ha una variabilità in cui gli anelli sottili sottili e quelli spessi spessi sono più frequenti di quanto dovreste aspettarvelo se la distribuzione fosse una gaussiana. Allora, questo tipo di ragionamenti ha delle conseguenze. Adesso io provo a dirne qualcuna, poi ragioniamo insieme. La prima conseguenza, ad esempio, ce l'ha sull'economia. Se voi fate il mandamento del prezzo del cotone, questo è uno studio famoso fatto da un signore che si occupava di frattani, Mandelbrot, o fate l'andamento dei prezzi in borsa, vedrete che la probabilità di prezzi anomali verso l'alto e verso il basso è straordinariamente più alta di quello che vi aspetterebbe. Poi avete a che fare con un fenomeno che non è lo stesso delle medie. Somiglia di più al fenomeno dei terremoti. Ci sono stati degli economisti, ad esempio, che l'hanno chiamato cigno nero questo fenomeno. Cioè, in sostanza, la probabilità che qualcosa vada molto storto nell'andamento dei prezzi è tutt'altro che banali. Adesso qui lo possiamo giocare in un modo inabile, ma la distribuzione di quei nodi è uguale alla distribuzione del reddito che si sta generando nel mondo contemporaneo. Noi eravamo abituati a un mondo in cui la maggioranza delle persone o una quota significativa di persone veniva definita come centro medio. E noi ci eravamo quasi convinti che questo fosse un fenomeno quasi naturale. Esiste un reddito medio e ragionevole, poi ci sono quelli molto fortunati, straricchi, e poi quelli molto poveri. In realtà, quello che sta succedendo, se guardate la distribuzione del reddito, è che il reddito sta esattamente sulla curva di quel giochino sociale strano che abbiamo inventato. Cioè, in sostanza, stanno aumentando gli straricchi, stanno enormemente aumentando i poveri poveri, e quello che era cosiddetto centro intermedio si magnifica. Cioè, la distribuzione del reddito viene, come dire, tirata verso i due estremi. Questa cosa, adesso poi ognuno la può leggere come crede, ma la prima spiegazione è che tu stai entrando in un sistema che non è più garantito dai meccanismi di regolazione precedenti. Mettiamola così, tu hai distribuzione di reddito che ricordano quelli che sono avvenuti nell'Inghilterra della prima rivoluzione industriale, quando in qualche modo, a fronte di un mondo molto ingiusto, governato da clero e da nobili, esisteva comunque una qualche stabilità e l'industria ha introdotto un meccanismo di forte disuguaglianza e ingiustizia. Raccolto una storiella divertente, nel 1800, mi pare, nel 96, mi pare, è uscito il primo numero dell'Avante. E questo numero annunciava un giornale che usciva il 25 di dicembre, Natale è uscito il primo numero dell'Avante. Questo manifesto chiama le persone a interessarsi di un mondo, cito a memoria, che si prospetta sotto il dilagare dell'ingiustizia e della corruzione. Cioè i due elementi, che è ben curioso, dei socialisti, per criticare il mondo, Porghese, è il richiamo ai nobili d'Alcler. Il mondo... Si richiamano l'esternazia, non capisco. O perché, ad esempio, cos'è la corruzione? È la rottura dell'ordine precedente. Quindi l'ordine precedente era una cosa che assicurava elementi di garanzia. Vediamo il caso dell'Inghilterra, così è un caso classico. I luditi venivano assolti sistematicamente dai tribunali dei Lord e in genere nelle sentenze si dicevano che erano dei bravi parrocchiani, onesti lavoratori, gente perbene. Senti addirittura delle sentenze che sostenevano, che lavoravano gli operai meglio, delle macchine. C'è chi ha sostenuto nelle sentenze che l'industria era un vizio, una malattia passeggera della quale ci si sarebbero riusciti finalmente a liberare. Poi almeno sarà così, dai, ci hanno assunto il tempo ancora. Infatti, ma arriviamo al fondo, se è per quello è interessante l'atteggiamento che oggi nasce. Perché quella era la cultura protestante, la cultura dell'industria, quindi era un mondo ben particolare quello che andava avanti. Ora, la Camera dei Comuni ha tolto ai Lord il diritto di giudicare, in caso... di luddismo, e ha generato una legge che prevedeva la pena di morte immediata per impiccagione a chiunque danneggiasse colleghi di lavoro o le macchine. Ma è stata la Camera dei Comuni, quindi sono stati i progressisti, i democratici, quelli che si ispiravano alla rivoluzione francese, che ammassavano gli operai luddisti. Quindi, una delle spiegazioni del fenomeno è che quello che sta succedendo è in qualche modo diverso da cosa è successo in passato, non equiparabile, ma è un cambiamento del sistema fondamentale che regola la produzione e la distribuzione di ricchezza. Perché altrimenti ti chiedi come mai dei sistemi che si chiamavano welfare, fordismo, tante cose, si stiano così rapidamente dissolvendo. Molti discorsi che riguardano l'ambiente sono di questo tipo, cioè non è vero che tu hai dei fenomeni normali e stabili, tu hai dei fenomeni che tendono a generare delle variabilità che a loro modo incentivano e aumentano la variazione. Il problema, ad esempio, dell'effetto serra, adesso non voglio entrare qui nella discussione, però, chiaro, se aumento il CO2, aumento la temperatura, aumentando la temperatura o per molti mesi all'anno, ad esempio il permafrost della Siberia, che non è più gelato, il permafrost emette metano e il metano è un gas serra enormemente più potente del CO2. Quindi il processo che accelera e innesta l'aumento di temperatura diventa un fenomeno che non solo si autosostiene ma aumenta. Cioè noi in qualche modo questo discorso che sembra un giocattolo, sembra un disegnino, ce lo troviamo in molti fenomeni che qualche decennio fa consideravamo in qualche modo marginali.